Lo spostamento del casello a Mugnano, se tutto dovesse andare liscio, sarà realizzato non prima di dieci anni. Intanto però il Ministero si è detto concretamente interessato all'ipotesi e quindi il piano va avanti. Lo ha detto l'assessore all'urbanistica del comune di Lucca, Serena Mammini, intervenendo a Noi TV in merito allo spostamento dell'attuale casella autostradale di Lucca Est. Oltre che un aumento della sicurezza autostradale, grazie a un maggior distanziamento con la barriera di Lucca Ovest, a suscitare l'interesse della società autostrade c'è il fatto che sarebbe mantenuto un introito anche dal vecchio casello che sarebbe trasformato in un parcheggio a pagamento a servizio dei turisti che vogliono visitare Lucca. Inoltre lo spostamento a Mugnano consentirebbe di archiviare definitivamente l'assa Est-Ovest, di difficile realizzazione visto che dovrebbe in qualche modo oltrepassare l'acquedotto del Nottolini. E anche qui c'è il fattore economico, perché fare il nuovo casello costa molto meno che realizzare la viabilità di collegamento tra Antraccoli e l'attuale barriera di Lucca Est. L'assessore ha sottolineato che l'ipotesi progettuale si basa su uno studio di fattibilità dell'Università di Pisa e che ovviamente si arriverà per gradi a un progetto definitivo. Intanto però c'è una prima ipotesi, che individua la nuova barriera ad ovest della Fabio Perini. E non mancano i punti critici, dato che l'uscita passerebbe nel giardino di queste abitazioni su via di Mugnano, perché anche qui alla fine gli spazi sono quelli che sono.